Una donna di 44 anni è rimasta ferita questa mattina sui colli berici per una caduta avvenuta nel corso di escursione in mountain bike lungo il sentiero in località San Giovanni in Monte, nel comune di Barbarano, Mossano. Erano circa le 10.30 quando la centrale del SUM118 di Vicenza è partita alla richiesta di intervento al soccorso alpino di Padova. La donna e pile iniziali di Sossano al momento di infortunio era in compagnia di alcuni amici ciclisti e nella rovinosa caduta ha riportato la probabile trattura di una gamba. Raggiunta da 13 soccorritori che sono risaliti al luogo dell'incidente grazie alle coordinate ricevute, l'infortunata è stata stabilizzata e imbarellata per essere trasportata in un punto agevole nelle cui vicinanza è atterrata l'inguranza di Padova. Una volta che l'equipe medica ne ha valutato le condizioni, la ciclista è stata trasferita su un'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Vicenza.